La mostra che oggi abbiamo inteso presentare qui a Valle Fredda ha un senso e un significato profondo, quello di contemperare l'amenità dei luoghi, questo posto incredibile nel verde, una struttura d'arte contemporanea per dare un respiro finalmente contemporaneo ad una regione, quella del Lazio, che ha bisogno di innovazione e soprattutto dei nuovi saperi. Una mostra è composta da lavori realizzati fra il 1996 e il 2006 sul quartiere dell'Eur di Roma e realizzata con tecnica di elettrofotografia su carta riciclata nera, acetato e lucido. Un progetto che è anche stato parte della realizzazione di un libro, un libro d'artista, che è parte della collezione di alcuni musei in Germania e negli Stati Uniti. Quindi questa occasione e questa bellissima giornata saranno un ricordo importante. Intanto l'idea di creare uno spazio che fosse legato al cibo, ma fosse anche un po' decontestualizzato da quello che è il cibo fine a se stesso. Amo l'arte e ho pensato che questo spazio fosse un spazio molto adatto. Vedo che le installazioni, vedo che le opere sono bellissime e sono orgoglioso e lusingato soprattutto perché loro hanno accettato di contribuire a questa loro bella mostra. Grazie. 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 Grazie.